Giuseppe per questo Natale torni nella tua città con una sorpresa in più. Beh sì, è una sorpresa veramente recente questa, perché finalmente dopo più di 50 anni la casa editrice Astorina, che è la casa editrice storica di Diabolic, testata ormai gloriosa dell'editoria fumetti italiana, dopo tanti anni finalmente la Astorina ha deciso di fare una, di varare una nuova testata. E questa testata si chiama DK ed è una miniserie di quattro numeri che stasera qui alle Monacelle stiamo presentando al pubblico materano. Sono usciti già i primi due numeri di questa miniserie, si trovano in Edicola oppure nella libreria Mondadori, che è uno dei nostri partner di stasera. I prossimi due numeri usciranno a gennaio e febbraio per completare questo primo ciclo di storie e sono già stati annunciati, già posso dire con sicurezza, che una seconda stagione, come si usa dire adesso, è in fase di lavorazione.